è proporzionale al fatto che viviamo in un mondo in cui la globalizzazione ha reso possibile la velocità di crescita di un'idea quando è vincente quell'idea, in modo che non è paragonabile con l'epoca storica in cui è vissuta Adriano Olivetti. Però dal punto di vista dell'atipicità e del gusto del design e anche dell'innovazione, certamente i due hanno dei punti di contatto, solo che Steve si è fatto i soldi con l'elettronica e in un certo senso quello che ha ucciso Olivetti è stata proprio l'elettronica.